Un ospedale che Siracusa attende da quasi 30 anni, un DEA, Dipartimento di Emergenza e Accettazione di secondo livello. A che punto è questo lungo percorso di costruzione? Ne parliamo oggi con l'On. Vincenzo Vinciullo per due legislature deputato regionale, eletto nelle file del centrodestra. Nel 2017 si è candidato in una lista di centrosinistra alternativa popolare, assessore e vice sindaco della giunta siracusana, leader di due movimenti Siracusa protagonista e prima Siracusa. A gennaio è passato nelle file della Lega Nord. Benvenuto Onorevole, io all'inizio presentando la sua presenza qui oggi ho parlato di Lega Nord. Lega Nord in realtà non esiste più, lei ci spiega perché è passato alla Lega come coordinatore provinciale siracusano e cos'è in realtà la Lega. Intanto grazie per l'invito che ho molto gradito come sempre, proprio perché voi garantite una qualità dell'informazione sicuramente importante e poi a lei in modo particolare. La Lega Nord non esiste più, come lei correttamente ha detto. Esistono tante leghe regionali, per cui in Sicilia esiste la Lega Sicilia, in Campania la Lega Campania, in Puglia la Lega Puglia. In questa federazione di leghe è chiaro che più tu pesi, più hai importanza all'interno di questo movimento, che per essere chiari non è un movimento a forte caratura ideologizzata, ma è soprattutto un metodo di lavoro che ha come obiettivo quello di difendere il proprio territorio. Io sono venuto a conoscenza di questo metodo di lavoro e sono venuto a conoscere i meccanismi quando mi sono battuto per far finanziare il nuovo ospedale di Siracusa. Come lei ricorderà, nel recovery fund, cioè nella distribuzione di fondi per le nove province siciliane attuate dal governo regionale, erano state inserite tutte le province tranne la provincia di Siracusa. E di conseguenza verrà stato un tentativo da parte dei partiti tradizionali di sacrificare la provincia di Siracusa agli interessi delle altre otto province, di umiliare la nostra provincia, di trasferire i finanziamenti che toccano alla provincia di Siracusa verso le altre otto province. E di conseguenza io ho fatto appello a tutti i partiti tradizionali. Io ricordo che da quattro anni non facevo parte di nessun partito politico, sono rimasto a guidare i miei due movimenti civici proprio perché volevo capire chi era il partito che a me gli avrebbe difeso gli interessi del mio territorio. E di conseguenza quando mi sono reso conto che in questa distribuzione di risorse circa 3 miliardi di euro, quindi una somma importantissima, nel meno un centesimo toccava alla nostra provincia, come lei ricorderà, ho contestato l'azione del governo, ho chiesto ai partiti tradizionali di difendere la nostra provincia. Bene, il partito che avrebbe difeso la mia provincia è chiaro che sarebbe stato il partito dove io avrei trovato casa. L'unico partito che ha difeso la mia provincia è stato la Lega, anche perché forse la presenza del nuovo segretario regionale, l'onorevole Minardo, che è vicino alla provincia di Siracusa dal punto di vista geografico e siccome alcuni obiettivi potrebbero essere comuni, ci hanno spinto a questo incontro. Abbiamo fatto questo primo accordo, questa sorta di federazione, fra i miei due movimenti civici e la Lega, poi siamo passati a una più, diciamo, maggiore convergenza, poi sono diventato il responsabile provinciale della Lega, però, veda, gli obiettivi cominciano ad arrivare. Avevamo chiesto dei fondi per il porto commerciale di Agusta, queste somme sono arrivate, a me fa piacere che ora anche qualche deputato locale cerca di dire che sono arrivati i fondi, però hanno avuto tre anni di tempo, il governo giallorosso e gialloverde erano esistiti da anni, ma prima non mi ricordo che erano arrivati i finanziamenti per la provincia di Siracusa, cioè i 5 Stelle sono stati al governo da tre anni, ma solo adesso che c'è come Ministro per lo sviluppo economico, Giorgetti cominciano a parlare di finanziamenti che possono arrivare nel nostro territorio, e noi siamo felici che arrivano finanziamenti nel nostro territorio, siamo felici che ognuno cerca di accreditarsi questo merito, perché, veda, la cosa brutta è quando nessuno si accredita nulla, dopo tre anni di silenzio prendiamo atto che cominciano ad accreditarsi dei meriti, e lo dico in maniera positiva, perché... No, certo, poi l'importante è che ovviamente le cose siano fatte, è anche vero che dal momento in cui si stanziano, al momento in cui poi le opere sono realmente realizzate, ci vogliono anni, quindi poi i meriti si possono anche un pochino dividere magari tra alcune forze politiche. L'importante è che arriva il risultato, tra altre cose veda una delle ultime cose di cui abbiamo dato comunicazione, è il raddoppio della Siracusa modica. Adesso arriva questo risultato per la Siracusa modica, siamo felici, vorremmo però che il risultato vi fosse anche la modica ragusa, perché in questo modo si rafforza ulteriormente la nostra presenza nel territorio della provincia di Ragusa. Onorevole, tornando all'ospedale, ecco Uniter ha iniziato anni e anni e anni fa, l'attesa è sempre lunga, ancora non è terminata, e adesso c'è la fase della realizzazione del progetto, che deve essere il progetto preliminare, insomma il progetto esecutivo, quello finale. Il 7 giugno l'ultima riunione all'ospedale Rizza, ecco, secondo lei quanto tempo ci vorrà prima di iniziare, non dico i lavori, ma insomma passare al bando per poi... Veda, in questa vicenda del nuovo ospedale di Siracusa, si distinguono due tipi di soggetti, chi lavora veramente, e in questo caso il prefetto, che ringraziamo per la presenza autorevole, e anche per che ha capito, ha studiato in maniera veramente ammirevole, quello che è il percorso che deve portare alla costruzione del nuovo ospedale, e ritengo che sia una delle poche persone che a livello provinciale, regionale e nazionale conosca l'ITER per arrivare al palto dei lavori, e poi un gruppo di persone, a cominciare dal Presidente della Regione, l'assessore regionale, il sindaco di Siracusa, che di tanto in tanto si presentano sulla scena e dicono sono stato io. Io non voglio fare polemica, però vorrei ricordare che questo sindaco da otto anni amministra la nostra città, prima cinque anni da vice sindaco, e adesso da sindaco. Ritengo che sia dopo Buffardecci l'amministratore più longevo, o meglio che è durato di più, che la città di Siracusa ha avuto, nemmeno Caracciolo era riuscito per otto anni di seguito ad avere l'amministrazione della città di Siracusa. Ad oggi però non abbiamo ancora stabilito il corretto ITER per quanto riguarda la scelta dell'area, e che quindi doveva fare il prefetto, e quindi non capisco perché il sindaco si impettisce e si presenta alle manifestazioni. Non ci sono le risorse, perché veda quello che Musumeci e Razza non hanno capito è che le risorse non ci sono, e insieme a loro non l'hanno capito a tutti quelli che di tanto in tanto alzano il dito per dire io ci sono. Ma per realizzare l'ospedale, come lei giustamente ricordava, occorrono le risorse, ed occorre sapere soprattutto quanto ammonta il finanziamento. Perché se non c'è un decreto che stabilisce quanti sono i posti letto, perché adesso il decreto parla solo di un DEA secondo livello, e qualcuno dovrebbe anche spiegarci come faranno a superare lo scoglio previsto dalla legge nazionale che impedisce che nel vicino di Siracusa, Catania e Ragusa vi sia un quarto ospedale di secondo livello, perché veda quello che io ho ormai capito, che c'è una sorta di presa per i fondelli, in cui si cerca di arrivare al 5 novembre 2022, cioè l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni, in maniera tale che ognuno darà la responsabilità mia, no, di coloro che verranno nella prossima legislatura, io ho fatto quello che dovevo fare. Quindi uno, intanto, devono stabilire con esattezza quanto sono i posti letto, perché questo è il 350 mila euro a posti letto, che dovrebbe essere il costo, diciamo unitario, dipende da quanti posti letto abbiamo. Quindi se abbiamo... Ecco, in questa progettazione, in questa idea progettuale, appunto che è stata poi aggiudicata da un raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentati dallo studio Plicchi di Bologna, ecco, i posti letto dovrebbero essere 425, però lei dice, giustamente è un'idea, ma è ancora... Allora, noi dobbiamo passare, come lei correttamente dice, dall'idea al progetto, cioè a un decreto assessoriale che è stato... Che sia sostenuto da un decreto, certo. Quando sono i posti, perché adesso c'è soltanto un apprezzamento di una proposta. Dopodiché, qualcuno ha dimenticato, però veda, il problema è che non si studia in questa provincia, che in atto vi è un ricorso al TAR, al TAR del Lazio, la cui decisione dovrebbe essere presa a giorni, io mi auguro, e attraverso questa decisione il TAR del Lazio deve stabilire se si può andare avanti nel progetto, oppure se bisogna fermarsi e capire se bisogna prendere in considerazione anche quelle che sono le osservazioni che hanno fatto il ricorrente. Superata questa fase, occorre che, ripeto, il decreto che fissi i posti letto e poi occorrono i soldini. Io non le nascondo che uno dei motivi per cui ho fatto questo passaggio alla Lega è legato al finanziamento del nuovo ospedale di Siracusa. Tanto è vero che nel fatto che abbiamo sottoscritto come movimento civico con la Lega, noi chiediamo che la Lega si impegni a fare finanziare il nuovo ospedale. Perché, veda, quello che non dicono è che l'ex articolo 20 della legge 67-88, ma quanti l'hanno studiata, non prevede nemmeno un centesimo. Il Governo regionale fa finta di non capire che le ultime risorse sono arrivate il 17 settembre del 2017 ed erano risorse non destinate al nuovo ospedale di Siracusa, ma destinate a pagare alcuni interventi che hanno stati fatti le strutture ospedaliere extraregionali. Nessuno dice, ad esempio, che non iniziano i lavori presso l'ospedale di Augusta per oltre 9 milioni di euro, che sono somme che lavori che dovrebbero iniziare finanziati proprio con l'ex articolo 20. Ora, se non esistono quindi i soldi per l'ospedale di Augusta... Di Augusta, figuriamoci per il nuovo ospedale di Augusta. Allora, io ho fatto appello, ho incontrato insieme evidentemente al Segretario regionale più volte il Ministro Giorgetti, che è il Ministro dello Sviluppo Economico, che è quello che tiene la borsa del Governo Draghi, inutile nasconderci, e ho detto che la città di Siracusa, la provincia di Siracusa, tutti i comuni della provincia di Siracusa, qualcuno anche di Ragusa e di Catania, aspettano la realizzazione di questo ospedale, perché questo significa che non potrà più ripetersi quello che è successo a Siracusa in occasione dell'epidemia che l'anno scorso ha portato alla morte di tante persone, ma vorrei ricordare anche il fatto che parecchi medici si sono infettati e si sono infettati proprio il generoso intervento di aiuto che hanno fatto, perché l'ospedale di Siracusa, l'ospedale generale, così come qualcuno tanto lo chiama, è assolutamente inadeguato a gestire le emergenze, ma non solo le emergenze Covid, ma lei se lo immagina una emergenza legata a un, speriamo mai, per questo ci affidiamo a St. Lucia, un ulteriore sisma, no? Certo, no, assolutamente. Anche perché l'ospedale di Siracusa è l'unico ospedale della provincia che non ha nemmeno l'elisoccorso, c'è la possibilità per l'elicottero di atterrare. In qualche modo ci si dovrà aumentare il posto. e così l'ospedale non è in grado di gestire le emergenze. Che fine farà l'ex ospedale? Dovrà essere venduto. Dovrà essere venduto perché è previsto nel piano di vendita degli immobili dell'ASPE, quindi di pertenenza della regione, e dovrebbe cofruttare circa 30 milioni delle vecchie lire. È chiaro che quello è il posto ideale, secondo me, evidentemente, per fare una grande struttura alberghiera. Sarebbe l'unico albergo che è a 7 metri e dal santuario della Madonna delle Lacrime, a meno di 100 metri dal più grande museo regionale che esiste in Europa, cioè il Museo Paolo Orsi, e a 300 metri dal più grande parco archeologico che esiste al mondo, non in Europa, cioè quello del teatro greco, e dopodiché a qualche chilometro da a piedi da raggiungere a Ortigio, ma puoi vedere l'anfiteatro, è in una posizione baricentrica importantissima. È chiaro che se io fossi il sindaco della città di Siracusa proverei a comprarlo, anche perché dal momento che l'amministrazione comunale paga parecchie migliaia di euro all'anno per affitti per uffici, io risolverei definitivamente i problemi della città. Il nuovo ospedale invece, ecco, il prossimo passo sempre tenendo presente che in qualche modo prima o poi anche tra anni dobbiamo averlo. Quale sarà? Ma intanto speriamo di superare questo ricorso che è stato presentato al CGA, speriamo nel senso che il CGA ci deve dire chi ha ragione e chi è torto, perché noi non siamo interessati né alla lettera A né alla lettera B, per noi le lettere sono tutte neutre, per cui siamo pronti ad accettare una decisione del TAR che dovrà venire al più presto possibile. Poi è chiaro che ci sarà il ricorso al Consiglio di Stato, io questo lo immagino e anche in questo caso noi facciamo appello al Consiglio di Stato affinché ci dia una risposta. A noi non interessa conoscere la risposta, a noi interessano i tempi della risposta che devono essere quanti più celere possibili. Dopodiché credo che questa associazione di studi che hanno progettato l'ospedale o altri potranno presentare il progetto, il governo dovrà fare il decreto in cui dice che in violazione del decreto Balduzzi in violazione del decreto Balduzzi c'è un quarto ospedale di secondo livello nel bacino di Siracusa Catania e Ragusa oppure dovrebbe fare la cosa più corretta prendere uno dei tre ospedali di secondo livello di Catania e portarli al primo livello anche perché io vorrei ricordare a tutti poi tutti dicono che io ce l'ho con i catanesi non è così e la loro arroganza insopportabile lei pensa che Palermo che è sicuramente più grande e anche più importante perché non dirlo di Catania ha solo due ospedali di secondo livello perché uno lo ha lasciato a Caltanissetta quindi potrebbe succedere la stessa cosa con Catania deve succedere la stessa cosa cioè Catania non può avere tre ospedali di secondo livello non ne può avere uno più di Palermo avendo una popolazione inferiore e non può da un momento che il vicino Siracusa e Ragusa è 800.000 persone non può mortificare questo territorio quando invece Catania ha Caltanissetta che sono 268.000 gli abitanti gli ha lasciato l'ospedale di secondo livello perché poi anche Messina ha due ospedali di secondo livello però ecco quello che ci manca è questo e quindi bisogna intraprendere questa strada fino alla fine io apparirò a molto antipatico però veda io quando parlo parlo con cognizione di causa ogni volta che ho contrastato i facili entusiasmi nessuno mi ha mai detto che io ho torto vediamo la politica non si può fare dicendo vediamo la politica si fa studiando e verificando quelli che sono gli atti noi però crediamo che alla fine del 2022 ci sarà un nuovo governo ci sarà un nuovo Parlamento e questo nuovo governo questo nuovo Parlamento affronterà in maniera seria il problema spero che sia un governo meno catania centrica in maniera tale che possa essere riconosciuta a tutte le province i diritti riconosciuti dalla legge grazie all'onorevole Vincenzo Minciullo per essere stato qui con noi oggi il nostro ospite grazie